ok ok non te lo so dire comunque il quick revive c'è è qua dov'è? è lì è tipo ah mica non lo vedevo c'è è la cucina comunque dovremmo stare tutti in un solito punto ah guarda il punto c'è il posto nel quick revive mi ispira in realtà proviamo lì dai casomai c'è abbastanza spazio c'è una finestra oddio abbastanza spazio in confronto al retto che è un buco ah per esserci solamente una finestra c'è l'hp buono non è mare come punto io direi di provare un po' per il primo round che magari vediamo qua per il primo round il posto migliore che la first room cioè dai no no per le sue finestre più il respawno laterale che non è molto gestibile qua invece c'è solo una finestra e la è di fronte c'è abbastanza spazio c'è lì vedi arrivare e altalena è distrutta quindi è sicuro che non adesso le cose diventano interessanti mark 2 ma ce l'hai il culo sfondato ma non solo dal dano proprio da pure dei ladri no no non devi dire queste cose non è possibile ma io boh mia califia è messa peggio eh cominciamo secondo me no comunque lei lo fa di mestiere in teoria non dovresti farlo e poi ora fa la gamer lei ok porta rispetto allora ho bene io ho un grande rispetto proprio grande enorme come come il mondo ah sì ok pianeti perfetto spere mi hai detto eri convinto proprio di quello che dicevi satelliti c'è capito se uno dice enorme pensa a mia califa pensa pensa a giovedo l'immensità del sistema solare ha pensato di qualcos'altro ma no del sistema solare del sistema solare si è una persona sporca e io prendo la speedcola perché e se com'è la mappa è quella che una speedcola potrebbe servire infatti faccio un'altra cassa dovete sapere che questa è la mappa remastered oh gary è bella ah giusto ma noi non abbiamo la minima idea di quale sia la mappa remasterizzata in questi esatto esatto facciamo le remastered di mappe però ti dirò è bella mi piace ha detto anche è una old school zombie si infatti 4 perk classici più mi sembra di vedere di non vedere nessun paca punch no infatti si proprio old school e t'attacca ma molto salire qua è madonna cioè fare tanti round qua è difficile proprio salire qua è madonna così madonna chi no madonna non la cantante eh sai com'è so che hai una mark 2 speravo sparassi si infatti stavo cercando di cambiarla però cioè cambiare armi intendo io ho capito cercavo di cambiarla perché è lui abituato a avere armi migliori perché di come non mi basta so che l'arma più forte che c'è della mappa se non c'è qualcos'altro ma sicuro se l'hai trovata tu sicuro sicuro se entro le prime tre casse non trovo un'arma forte dobbiamo quittare perché eh beh se si restarta normalmente si cambia mappa ah c'è l'orsacchiotto cioè nel senso c'è la gas ah c'è un altro spot è qui se non ce ne sono altri ah si si lo vedo cioè è tutto così buio ma lo vedo tutto così minuscolo e buio scusate piccolo e buio da la manata dentro saldi non doveva migrare ormai dopo prende la speed cola perché gomma ho fatto io cassa o hai fatto tu no figata che tipo la coltellata prende il calcio dell'arma e glielo dà in faccia si si l'avevo notato no questa l'ho fatta io comunque allora ma ci sono tre spot della cassa what the fuck ma ne vale la pena cioè nel senso cioè perché minuscola punto olimpia ma si può trovare l'olimpia dalla cassa è tipo al muro qua punto cioè in realtà hai perso tipo 450 punti perché costa considerando che erano saldi no ma vabbè ah è vero si il problema è cosa sono le munizioni adesso c'è un po' le munizioni il problemino qua allora io ho trovato il ppsh41 c'è un pacca a pancio tipo easter egg esce fuori mappa una parte di me ci spera la parte realista sta prendendo a pugni quella parte ok io proprio non vedo però guarda tre fozze della cassa hanno il suo perché perché te c'è la comunità di mentre stai qua fare cassa in che senso eh però se non migrasse ma che sangue in aria se non migrasse non ci sarebbero cioè i saldi si si ho capito vabbè quelle anche quindi uno spot o la nace del run totten sarebbe apprezzabile avvisa eh prima si mastercard o anzi carta o banca non l'ha detto ragazzi non mi preoccupate no 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 non c'è ricarica ricarica non cliccate di si scrive dai bravo ringraziami che ho evitato che tipo eh 60.000 persone su 50.000 si stavano perdendo nel senso che altri 10.000 si iscrivono e poi si iscrivono esatto ma la vuoi chiudere con la finestra che già son raffreddato che cazzo veramente è quasi una porta con delle barriere eh ho capito ma già che si possono riparare ripariamole se già è un buco di mappa se teniamo pure le finestre aperte veramente ma non lo fai io per te andiamo a insaporire con un po' di sale e pepe e ci diamo in pasto a loro che cazzo sal e pepe dai dillo so che lo vuoi dire dai no eh si no come no l'ho già detto te quindi che bisogno c'era che bisogno c'era 24 primavera 24 primavera ma dai me ne passa anche una sal 24 stagioni ok questo è uno dei miei nomi che mi devo segnare sal 24 stagioni è bello però è profondo no arriva arriva non penso te l'abbiano mai detto fatto a morire eh cioè ti devi mettere l'impegno per morire coprendo una finestra con la mark 2 cazzo eh per me che non la stavo coprendo con la mark 2 in quel momento a pugni stavano andando avanti più me ah beh come dai e non puoi di nuovo fare cassa come entrai la mark 2 piattellata in faccia ma in realtà le munizioni guarda che qui scarseggiano come se non ci fosse un 2 mile questo è vero ma ad ora non c'è neanche più raff più di cola fuck vedere che un lato positivo di questa mappa è che è piuttosto veloce nel senso che siamo al round 14 in 20 minuti 18 meno di 20 minuti 18 dai quindi secondo questa statistica dovremmo essere al round 40 in 15 minuti si va bene ok contaci ah qui non funziona così su zombie ah ma quindi su zombie quindi se al round 1 uccidico una coltellata al round 40 uccidico un 40 coltellate no eh mi sa di no allora compriamoci il double tap che così aumenta il danno ah si si basta parlare da non intenditore di zombie giocatore di altre cose giocatore di altre cose di altre cose andiamo grazie vecio grazie vecio vediamo se la cassa è generosa tanto dei punti non pensi che me ne farò un tanto ma tipo la scimmie eh no no ma vaffanculo va ne faccio 20 io tranquillo io si io e la cassa non andiamo molto d'accordo ma tipo com'è che fa give Reagan upgraded come era il codice tipo eh per darmi un'arma potenziata apro la console qua dico non lo so se tu che citta eh si si fa finta di non saperne niente però si si certo certo fingi 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 di infamarmi quando in realtà occhio zombie sto ricaricando situazione caffiana ma sicuro che qua sia un buon punto dove stare attento che te ne arrivo uno dietro dai e devo ricaricare ok ragazzi link in descrizione eh si c'è uno vabbè no ma dai eh ma hai una avevi una cazzo di finestra da coprire eh ma ti pare facile ma ti giuro ma arrivano un botto ma ma ce l'avevi almeno tutti e quattro i perk no ero morto almeno prima li avevi avuti si prima ce l'avevo ah almeno quello ma io buo vabbè dai la riprovi trovo le armi della madonna io vado avanti a darmi al muro comunque tocca a carryarlo guardate sta roba vabbè quindi non c'è il paga punch tanto pare no che dici se facciamo tipo speedrun a round 15 poi riprendiamo da là oppure non so beh in realtà non so quanto riusciremmo ad andare oltre round 15 si ma infatti cioè perché se non c'è niente altro cioè finisci qua cioè è appunto cioè cazzo ma ciao c'è con con le armi che trovi lì se ti va bene arrivi al 20 attentoni buh dimmi tu se vuoi rifacciamo ciao ciao Grazie per la visione!